L'Unpli Abruzzo invita tutti i ragazzi con età compresa tra i 18 e 29 anni ad iscriversi al bando per la selezione di operatori volontari entro il 10 febbraio 2023 attraverso la piattaforma DOL. domandaonline.serviziocivile.it Per maggiori informazioni www.serviziocivile.net e www.scelgualserviziocivile.gov.it Vivi un'esperienza indimenticabile. Far crescere i giovani vuol dire far crescere l'Italia. Unpli Abruzzo. Per info e contatti 340 46 24 031.